Ciao a tutti ragazzi, siamo nelle valli di Lanzo e siamo a Sant'Ignazio, sotto il santuario di Sant'Ignazio per raccontarvi la storia di una popolazione che nel 1629 veniva continuamente invasa da dei lupi che divoravano sia i bambini e divoravano anche il bestiame. Ma grazie a un santo offrì a loro protezione contro l'invasione di questi lupi e tutt'oggi è stato eretto questo fantastico santuario nel suo nome. È un posto fantastico, oggi è un posto affascinante, è un posto fatto di spiritualità, è un posto fatto di uomini, è un posto fatto di eroi. Vi auguro una buona visione e se vi capita di passare da queste parti venite a visitarlo, ok? Si parte per un altro posto, storie 60 secondi, non molla. la mia vita è un posto, storie 60 secondi, non molla. Ciao ragazzi, qui è dura perché stiamo cercando di raggiungere il santuario di Sant'Ignazio, ok? E non so, penso che c'è un bel po' di neve, ok? Adesso dobbiamo andare al santuario di Sant'Ignazio così vi racconto una storia.